Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 in apertura alla cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di ieri in un ristobar di piazza della rinascita a Pescara. La polizia ha fermato la notte scorsa un 29enne di origine abruzzese ma che vive da anni all'estero. Il giovane che era in albergo si era allontanato a bordo di un taxi contando di rientrare in Svizzera ma è stato bloccato nelle marche nell'area di servizio Metauro della A14 in provincia di Pesaro Urbino ed è rinchiuso nel carcere di Pesaro. Oggi nella tarda mattinata il questore di Pescara Luigi Liguori ha parlato dell'intera operazione. Paolo Renzetti. C'era stata una defragazione dell'ordine pubblico ieri con questo delitto così grave e dalla eziologia abbastanza complessa non c'era un apparente motivo per cui era stato commesso questo gravissimo delitto. Quindi a livello tecnico operativo abbiamo allertato tutti i dispositivi affinché questo pericolo non si propagasse in città innanzitutto allertando tutti gli equipaggi e dotandolo ovviamente di giubbotte antiproiettili e dotando altre procedure operative. Dopodiché i nostri investigatori hanno iniziato la caccia a questo individuo che si è conclusa poi sostanzialmente nelle marche con il brillante intervento della Polizia Stradale. Abbiamo operato una scelta di evitare che il soggetto si accorgesse di essere pedinato dalle forze di Polizia. Abbiamo evitato dei posti di controllo, dei posti di blocco per evitare che il tassista diventasse uno stagio di questo soggetto. Gli abbiamo dettato delle modalità operative di intervento avendo avuto la possibilità di interloquire direttamente col tassista che ha eseguito le disposizioni del nostro funzionario e la Polizia Stradale con professionalità è riuscita a metterlo in sicurezza senza ulteriori problemi. I dispositivi di sorveglianza elettronica sia del locale sia quelli della città, c'è questo importante protocollo che sta per essere esiglato tra la prefettura e il signor sindaco di Pescara, ci hanno aiutato nelle indagini insieme ad altri elementi che abbiamo raccolto. Poi all'interno dell'albergo la squadra mobile è giunta 5-6 minuti dopo che il soggetto a bordo del taxi aveva abbandonato l'albergo, poi si è recato in altre zone del nostro territorio e si stava rivolgendo all'estero. E' lì che poi è scattato questo piano per poterlo intercettare in sicurezza. Aveva la prenotazione in quest'albergo, è arrivato il 4 con previsione di fermarsi fino al 16 di questo mese, aveva sporadici rapporti con dei parenti, aveva un rapporto quasi nostalgico con questa città. C'è una componente emotiva che poi le indagini andranno a valutare che potrebbe aver inciso nella commissione di questo delitto considerati futili motivi per cui ha sprigionato la propria rabbia. Questi accertamenti li compirà la squadra mobile che si sta raccordando con l'autorità giudiziaria, in ogni caso non pare che la pistola fosse innanzitutto legalmente detenuta, non lo era, non pare sia di origine italiana, però questo lo confermeremo al termine degli accertamenti ancora in corso, non sono passate ancora 24 ore dal fatto. Sto contattando il servizio sanitario svizzero per farmi mandare i documenti perché il mio assistito ha comunque una problematica psichiatrica. A spiegarlo è l'avvocato Florenzo Coletti che rappresenta il 29enne sottoposto a fermo di polizia. Voglio capire bene che tipo di problematica c'è, ha aggiunto, per sapere se bisogna richiedere una perizia psichiatrica, se è capace di intendere e volere. E poi ancora riceverà un riconoscimento in occasione delle celebrazioni per la festa della polizia previste per domani il tassista che ieri ha accompagnato a bordo della sua auto il 29enne ritenuto responsabile di aver sparato al cuoco del Ristobar di Pescara perché è insoddisfatto della qualità delle pietanze e dei tempi di attesa. Il tassista infatti è uno dei protagonisti del delicato intervento della polizia che nella tarda serata di ieri ha portato alla cattura dell'uomo. Ad annunciarlo è il questore di Pescara Luigi Liguori a margine della odierna conferenza stampa in cui sono stati forniti i dettagli dell'operazione. E restano gravi le condizioni del 23enne cuoco del Ristobar Gelfry Guzman di origini dominicane ma da anni residente a Chieti e ora ricoverato nell'ospedale di Pescara dopo essere stato sottoposto a intervento chirurgico per l'estrazione di due proiettili. Il ragazzo ha un trascorso nel pugilato, è stato tre volte campione regionale dei Pesivelter e medaglia di bronzo nel 2017 nelle nazionali di boxe. Un talento per questo sport dotato di tecnica innata, così lo descrive chi lo ha allenato. Selenia Secondi Le notizie che arrivano dall'ospedale riguardo le condizioni di salute di Elfri Guzman ci fanno ben sperare. Davide Di Meo è stato il suo allenatore a Chieti per tanti anni, noi da te vorremmo un ricordo proprio, com'è questo ragazzo? Il classico ragazzo adolescente, quando l'ho conosciuto, quindi solare, poi la sua etnia è San Domingo, quindi sudamericano, allegro, felice, innamorato della vita. Siamo conosciuti perché lui venendo in Italia, raggiungendo la madre, aveva questo desiderio di praticare il pugilato. Un amico in comune me l'ha presentato e da lì è iniziato il nostro rapporto, perché poi è diventato uno di famiglia. E quindi da lì è nato il nostro rapporto e la sua pratica nel pugilato, quindi è un ragazzo già pronto muscolarmente, perché era già fisicato, insomma era già tutto disposto per questa avventura nel pugilato. Lo descrivono come un ragazzo tranquillo? Un ragazzo a posto, un ragazzo, come ho detto prima, innamorato della vita, quindi non mi va che si associ in situazioni brutte, insomma, che non appartengono a lui. Un ragazzo devoto alla famiglia, infatti aveva poi lasciato il pugilato per intraprendere il discorso del lavoro, per essere sempre d'aiuto alla famiglia e alla sua famiglia, diciamo, natale, i genitori, ma anche l'ultimo arrivato, il figlio. Ecco, il bambino adesso quanto ha? Credo due anni, sì, due anni. E tra l'altro la notizia era che lui voleva ricominciare anche a fare pugilato? Sì, sì, mi aveva contattato state passate, con la classica frase maestro mi manchi, e voleva tornare, insomma, praticare il pugilato, visto che aveva raggiunto una posizione economica tranquilla, insomma. A questo punto gli facciamo un in bocca al lupo per le sue condizioni di salute? Un grandissimo in bocca al lupo, siamo tutti con te, Yelfri, sei un leone, dimostralo anche in questo caso maledetto. Abbiamo pagina il ministro Massimo Garavaglia, è stato oggi nel padiglione Abruzzo della Bit a Milano. La rivoluzione digitale, ha detto, è la chiave per far crescere un comparto che non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale. Il servizio di Giuseppe Dintino. È stato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, l'ospite del padiglione Abruzzo, nel secondo giorno della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Il turismo italiano ha enormi potenzialità, vale circa il 13% del PIL prima della crisi, ma ha ampi spazi di miglioramento. Possiamo arrivare al 20%, con tanta organizzazione, facendo come paesi che oggi sono più organizzati di noi. Bisogna essere onesti in questo, ci sono paesi che sanno vendere meglio un prodotto che spesso, anzi, di fatto è inferiore al nostro. Il punto chiave è la rivoluzione digitale. Non è un caso che siamo partiti da lì, abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo app digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico, che però richiede un lavoro collettivo. Dopo un anno di stop causa Covid, quest'anno la fiera è tornata a svolgersi regolarmente. Il turismo dovrà essere un volano per l'economia nella fase della ripresa. Dopo un anno di stop e dopo di qualche anno in cui eravamo presenti in maniera un po' ridotta, l'Abruzzo torna alla Bitti in maniera importante, con 300 metri di padiglione. Lo scopo è quello di fare una vetrina dell'Abruzzo, di tutto ciò che l'Abruzzo può mostrare per fare felice un turista. Diciamo che il core business del nostro turismo rimane ancora legato al turismo legato al mare. Diciamo che sei turisti su otto che vengono in Abruzzo ancora lo fanno per le nostre splendide spiagge. Tante le celebrità ospiti del padiglione Abruzzo per promuovere la propria regione d'origine. Ieri ci sono stati l'attore, vincitore dell'ultima edizione di LOL, Maccio Capatonda, e lo chef stellato Nicoromito. Quest'oggi l'olimpionica Gaia Sabatini è collegata in videoconferenza, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il manager del Manchester City ed ex campione di pallannuoto, Manuele Stiarde. La parte più radicata in me è sicuramente la montagna, anche gli odori della montagna abruzzese mi mancano. Vieni, vieni, vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni ad annusare l'Abruzzo, vieni! Ok, se ci sei. Io inizio ad allenarmi a Teramo e mi sono spostata sempre nelle varie città abruzzesi per potermi allenare, per fare gare, quindi Chieti, Pescara, andavo a scelare Pratititivo, a Campo Imperatore. Quindi io sono super legata a questa terra, sono felicissima di essere qui oggi e ringrazio tantissimo appunto di avermi chiamata come ambasciatrice, perché per me è solo un grande piacere e un'ora. Diamo un consiglio a un turista che vieni in Abruzzo, cosa deve assolutamente assaggiare? L'Abruzzo è una regione che ha una quantità di ricette tipiche incredibili. Io vi faccio un esempio, c'è il mostacciolo, il biscotto tipico che è abruzzese. Se io vado a Rivisondoli, vado a Roccarazzo, vado a Pescovostazzo, vado a Castel di Sangue, sono quattro ricette diverse. Se dico oggi, bisogna assaggiare il mostacciolo di, cioè il comune vicino insorge. Quindi allora voglio dire, assaggiamo più prodotti possibili, perché l'Abruzzo ha una quantità di ricette, di prodotti tipici incredibili e di grande identità. Vieni a Abruzzo perché è bello, non Bruzzo. Marsiglio, fammi fare lo spot per la regione Abruzzo, perché se no qua siamo ancora a Milano. E la crescita costante del mondo vino in Abruzzo viene confermata anche in questi primi giorni di Vinitaly. Il padiglione dedicato alla nostra regione è meta di tanti buyers. In mattinata è arrivato anche il presidente della regione, Marsiglio. Stefano Recanati. Secondo giorno di Vinitaly della 54esima edizione per la precisione. Siamo all'interno del padiglione numero 12 che ospita lo stand Abruzzo. A nostre spalle l'enoteca regionale, già dalle prime ore del mattino molto attiva. Insieme a noi abbiamo Valentino Di Campli, il presidente del consorzio dei vini di Abruzzo. Secondo noi si può già fare un punto perché abbiamo visto che il padiglione numero 12 è molto visitato. Chiaramente c'era molta attesa. Oggi è il giorno più importante, oggi e anche domani. Per cui siamo contenti della presenza e anche della tipologia di persone che stanno frequentando il nostro padiglione. Per quanto riguarda il contrassegno di Stato, sono tutti numeri positivi e questo è il vero orgoglio perché vuol dire che anche nei momenti di difficoltà l'Abruzzo ha lavorato bene. Sì, siamo contenti di questo, infatti con il contrassegno di Stato che dà la massima garanzia dei prodotti denominazioni di origine controllata da Abruzzo. Oggi abbiamo una crescita costante, addirittura più 25% nei primi due mesi del 2022, dopo un 2021 anno Covid comunque in crescita rispetto al 2020, quindi un trend decisamente positivo. Ed oggi visita istituzionale anche per il Presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, ha visitato le cantine e poi nell'intervista si è lasciato andare anche a dichiarazioni per il prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Due anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Bit e Vinitaly, due appuntamenti in sinergia per un unico Abruzzo del turismo in estate. Nella nuova programmazione dei fondi europei la promozione territoriale e il marketing sarà molto ma molto presente e completeremo un percorso di cui purtroppo l'Abruzzo ha sempre scontato il deficit di scarsa presenza, scarsa promozione, scarsa visibilità e conoscenza del prodotto Abruzzo. Sono 744 di età compresa tra 3 mesi e 98 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Di questi casi 663 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 831 tamponi molecolari e 4354 test antigenici. Il tasso di positività è pari al 14,34%. I nuovi casi provengono, 92 dalla provincia dell'Aquila, 239 da quella di Chieti, 199 da quella di Pescara, 195 da quella di Teramo, 5 da fuori regione, mentre per 13 sono in corso accertamenti circa la provenienza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi, si tratta di un 93enne della provincia di Teramo e di un 87enne della provincia di Chieti e sale a 3135. Nelle ultime 24 ore sono 1.709 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi scendono a 43.626, meno 968 rispetto a ieri. 316 pazienti, più 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. 10, dato invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva. Un'antenna 5G per la telefonia mobile alta 10 metri sarà posizionata in via Molinari a Teramo. Protestano i residenti della zona martoriata da anni dalla presenza di tanti altri ripetitori. Il comitato del quartiere stazione chiede all'amministrazione comunale un piano antenne e sottolinea la vicinanza dei ripetitori a tante scuole ed asili. Il servizio di Tegna Bonnici Castelli. Vivere o lavorare sotto una distesa di antenne 5G non è certo rassicurante ed è giusto chiedersi se ciò comporti rischi seri per la salute. È quello che sta accadendo nel quartiere stazione di Teramo, dove negli anni sono stati installati numerosi ripetitori di telefonia mobile. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso per i residenti della zona è l'installazione di un'antenna di 10 metri che stanno posizionando proprio in questi giorni sul palazzo di via Molinari, sede tra l'altro dell'importante ente formativo Consorform frequentato da centinaia di giovani che seguono i corsi professionalizzanti. L'ente si è opposto strenuamente alla decisione del condominio che ha maggioranza invece deciso per l'installazione. I cittadini sono preoccupati e il comitato di quartiere che li rappresenta, presieduto dal dottor Siriano Cordoni, protesta con forza. Il comitato stazione non era assolutamente informato di questa nuova installazione? Assolutamente no, ci siamo visti piobbare una gru megagalattica qui sulla via, pensavamo che fosse il 110% delle ulteriori ristrutturazioni che stanno facendo in zona, invece a un certo punto abbiamo visto che stavano montando un'ulteriore antenna, un'antenna del 5G di cui noi siamo consapevoli che prima o poi dovremmo fare i conti con il 5G. Ma i cittadini devono essere informati, non può essere che un'amministrazione faccia calare dall'alto una decisione così importante. In questo quartiere ci sono tantissime altre antenne. Sì, ma è proprio questa la nostra preoccupazione, che già esiste un palazzo delle poste, dove c'è una selva di antenne. Quindi ci saremmo aspettati che un piano antenne prevedesse l'inizio dell'installazione del 5G da un'altra parte, lontano, per una distribuzione equa su tutto il territorio della nostra zona. I cittadini non sono stati per niente informati. Per due giorni abbiamo avuto chiuso la strada, non c'è stato neanche un cartello. Quando un singolo cittadino deve ristrutturare un appartamento, un negozio, deve mettere cartelli, deve fare comunicazioni, deve informare. Questi delle multinazionali si possono permettere di arrivare nella nostra città e mettere le antenne. Questo ci serve una cosa che l'amministrazione dovrebbe prendere nella debita considerazione. Il quartiere Stazione, insieme alla Gammarana e San Berardo, è una zona della città particolarmente popolosa. Sono circa 8.000 cittadini che risiedono in questa area, ormai non più periferica, dove insistono diverse scuole e asili. All'unità operativa complessa del reparto di urologia dell'ospedale civile di Pescara, sperimentata con successo la nuova frontiera innovativa per la cura dell'ipertrofia prostatica con la procedura Rezum. L'ipertrofia prostatica benigna o iperplasia è un aumento di volume della ghiandola prostatica che fisiologicamente si verifica nel soggetto, ovviamente maschile, perché la prostata è una ghiandola prettamente maschile. Questo comincia, questa situazione, a svilupparsi dopo i 40 anni e ovviamente può avere delle evoluzioni differenti a seconda dei soggetti, chi resta sintomatica, chi dà dei disturbi minimi, chi richiede un trattamento farmacologico, chi invece necessita addirittura di un trattamento chirurgico. I disturbi sono quelli conosciuti ahimè dalla stragrande maggioranza della popolazione ultrasettantenne, cioè dall'aumento della frequenza minzionale alla difficoltà ad urinare fino alla difficoltà a vuotare completamente la vescica. E lì normalmente poi interviene in qualche modo l'urologo con le proprie armi. Tra queste armi, appunto, come ho detto prima, dalla terapia farmacologica fino a quella chirurgica, oggi si inserisce questo trattamento che possiamo definire veramente mini-invasivo. Sono veramente orgoglioso e ringrazio l'ASL e la direzione strategica di averci in qualche modo fornito questo strumento. Si tratta di una tecnica rivoluzionaria, cioè praticamente una tecnica dove noi attraverso il vaporacqueo riusciamo a ridurre la sintomatologia del paziente e per cui tutte quelle persone che o non possono prendere farmaci o perché sono giovani e quindi non sposano bene l'idea di una terapia farmacologica o perché vogliono in qualche modo procrastinare nel tempo l'intervento chirurgico, noi abbiamo questo trattamento alternativo che ci permette di ridurre la sintomatologia, in molti casi addirittura di togliere la terapia farmacologica, preservando completamente quella che è la funzione riproduttiva del paziente, quindi mantenendo l'eiaculazione che è una delle problematiche che spesso e volentieri con la terapia farmacologica o con la terapia chirurgica il paziente viene a perdere. E ora lo Sport Serie C, Pescara già al lavoro per la gara di Pistoia di giovedì sera alle ore 21, mancheranno lo squalificato Derisio e l'infortunato Zappella che nella gara col Grosseto ha riportato una lussazione alla spalla, probabile anche l'assenza per Memushai nella seduta di questo pomeriggio al Poggio erano presenti Rauti e Ilanes che sono recuperati per la gara del Melania. Ascoltiamo ora l'attaccante Eugenio Dursi tra i migliori nella faticosa vittoria di sabato. Va bene così, basta che si vince. Pure le squadre di Serie A, la Juve vince 1-0 e porta i tre punti a casa. Quello conto, nei tre punti alla fine. No, mi è dispiaciuto però il calcio è anche questo. A volte vanno in base ai risultati. Ora dobbiamo concentrarci su queste due partite e poi dobbiamo fare i play-off alla grande. Sì, ma queste secondo me sono le partite più difficili. È più facile giocare quando giochi con un Cesena, con un Entella perché la partita si prepara da sola. Queste sono partite difficili che loro vogliono salvarsi e quindi ci fanno la guerra. Noi dobbiamo essere bravi ad abbassarci al loro livello e a fare legna anche come loro. Noi venivamo da un periodo di insicurezza però piano piano la ritroviamo. Basta, l'ho detto, abbiamo vinto una grande partita. Non era facile vincere contro il Grosseto che si deve salvare. Quindi, l'ho detto prima, era una partita difficile. Poi abbiamo avuto pure molte occasioni. Alla fine, anche col tiro di Pompetti che ha fatto una grande parata. Poi il calcio è d'episodio, si sa. Ci hanno detto meglio a noi. Sono partite che sono andate, dobbiamo guardare il presente. Il presente ora ci dice che stiamo a più o meno due dal Cesena e a meno uno dal Entella. Se dobbiamo vincere queste due partite poi alla fine vediamo anche i risultati loro. Se arriviamo quarta, arriviamo quarta. Se arriviamo terza, arriviamo quinta. Ci giochiamo sempre la carta. Tanto si sa che il play-off devi vincere sempre per vincere il campionato. Sì, la Pistoliese è un'altra squadra che è stata alla grande. Ha vinto anche col Modena. Quindi stanno in un periodo buono. Sappiamo la partita che andiamo a affrontare e noi andiamo anche noi là per vincere perché siamo una squadra forte e dobbiamo lottare, l'ho detto, per arrivare, per credere al terzo posto. A lavoro anche il Teramo con una seduta pomeridiana al Bonolis in vista del match di giovedì sera in casa dell'Ancona Matelica. Il tecnico Guidi spera di recuperare Malotti per un match che potrebbe spalancare prospettive play-off per il Diavolo. Ascoltiamo il portiere Perucchini. Sicuramente dopo la partita di Montevarchi eravamo tutti anche preoccupati, diciamo, probabilmente. Da quel momento sicuramente è venuto fuori qualcosa in più da ognuno di noi sotto il piano del gioco, che quello c'è sempre stato. Sotto il piano magari caratteriale, sotto tutti quei punti di vista lì e le partite dopo comunque ne sono state la dimostrazione. Abbiamo fatto partite dove comunque abbiamo dato continuità ai risultati, quella che c'era mancata prima. Adesso, come hai detto te, non c'è ancora nulla di matematico, ma noi adesso giovedì andremo ad Ancona per fare la nostra partita e cercare di portare a casa i tre punti. Ma come avremmo fatto allo stesso modo se fosse proprio matematico al 100%. Quindi noi sicuramente non ci snatureremo e continueremo ad andare a giocare queste ultime due partite, a dare battaglia, diciamo. Perché comunque, come hai detto te, è vero, non c'è matematica, sei lì comunque fuori del play-out, un pochino fuori del play-off, quindi comunque queste due partite sono importantissime. se pensiamo come stavamo, come ha detto prima il tuo collega, dopo Montevarchi, sì. Però io penso che questa squadra abbia dimostrato tante volte di che pasta è fatta. E ora la serie D va al Chieti, il derby del Savini con il Notaresco, un successo che permette ai Neroverdi di tornare a sperare nei play-off per la squadra di Epifani, nuovo stop casalingo. Jacopo Forcella. Tenacia e volontà di crederci fino alla fine. Gli ingredienti che bastano al Chieti per violare il Savini di Notaresco, uno di quei campi in cui è difficile persino strappare punti e che invece ne regala tre alla squadra di Alessandro Lucarelli che passa uno a due grazie alla perla nel finale di Marco Mariani. Un successo pesante come un macigno per i Neroverdi che tornano con in valigia un pieno di entusiasmo che non fa mai male. E dire che mancava ancora Fabrizi davanti a cui si era giunto Bassini dietro mentre in Casa Rosso-Blu Maio ed Esposito, seppur recuperati, partono dalla panchina ma il senso della gara per certi versi è in un approccio subito super del Chieti che colpisce immediatamente. Il tiro di Verna dalla distanza al sesto è velenoso al punto che Shiba rimane immobile e fa esplodere i cento e passa tifosi Neroverdi al seguito. In generale gli ospiti sono più reattivi. Al diciassettesimo Aquilanti lancia Elwasni che controlla non benissimo e vede la sua conclusione respinta dalla difesa di un Notaresco che si fa vedere solo al ventesimo quando Valenti invita Pampano l'undici supera forti ma è costretto a calciare alto dopo la chiusura della difesa. Un sussulto però perché la squadra di Lucarelli ci riprova col cross da sinistra di Pietrantonio ribattuto ancora sui piedi di Verna che stavolta non trova la porta. Epifani inserisce Blando per Diarra e trova la rete del pareggio al quarantatresimo. Valenti inventa per Pesce atterrato da Pietrantonio in area nessun dubbio per Ravara e Dorato dal dischetto fissa il punteggio sull'1 a 1 punteggio che traballa dopo altri 60 secondi quando Forti è super sul mancino ancora di Valenti. Pampano in apertura di secondo tempo avrebbe il pallone del sorpasso liberato ancora dal solito Valenti ma bisticcia con la sfera al momento decisivo è la difesa del Chieti rinviene ripresa viva Pietrantonio prova a sorprendere Sciba col piazzato da posizione defilata problemi che l'estremo difensore non ha quando Siragusa lo chiama all'intervento col destro dalla distanza Lucarelli inserisce ventola per Verna e il numero 18 in transizione indirizza bene la staffilata che chiama Sciba al tuffo per la respinta. Epifani risponde con scimia ed esposito che orchestra quest'ultimo un'azione tutta verticale che Massarotti non concretizza come potrebbe i tentativi sempre dalla distanza ancora di ventola prima e Valentipoi sono i prodromi del successo del Chieti firmato da Mariani minuto 89 il cui sinistro al volo dopo una respinta di Sciba è una saetta imparabile che fa impazzire la curva Volpi trasferita sugli spalti del Savini e che non trema quando Blando con l'ultimo tentativo chiama a forti alla presa in due tempi l'uno a due conferma che il Chieti è ormai squadra matura dalle armi molteplici ma in possesso soprattutto di un'identità chiara con la quale giocherà fino alla fine del campionato per il notaresco un passo falso che certifica quanto questa stagione abbia l'andamento delle montagne russe il possibile riscatto dietro l'angolo giovedì in Abruzzo arriva il Tolentino vi ricordo vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Reprey la trasmissione di Enrico Rocchi e vi ricordo anche il prossimo appuntamento con il Tg la terza edizione delle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie per la visione